Il risarcimento complessivo richiesto è di circa 3 milioni e mezzo di euro. L'ex comandante della Polizia Municipale di Padova, Antonio Paoloci, e il suo vice Maria Luisa Ferretti sono stati citati a giudizio per danno erariale dal sostituto procuratore generale della Corte dei Conti del Veneto. Secondo l'accusa, i due dovrebbero pagare di tasca propria le multe condonate tra il 3 novembre e l'8 dicembre 2014, dopo l'installazione di 8 nuovi autovelox, circa 70.000 sanzioni, un numero talmente elevato da convincere il sindaco di allora Massimo Bitonci a bloccare e posticipare l'entrata in funzione dei rilevatori di velocità, anche per evitare di paralizzare la macchina burocratica. Ma secondo la procura, la percentuale di sanzioni era inferiore a quanto previsto in fase di progettazione e le casse del comune di Padova e quelle statali sono parti lese.